Allora, il mio odio è unico Il nostro malletto, Alessio, consigliamo il nostro antiguolo ai nostri autori e per primi Piano, piano, piano Poi premeremo anche chi li ha truccati ovviamente Eccoli qua Vuoi dire qualcosa? Grazie a tutti Grazie a voi Un applauso a Giovanni Laculli Non vedete il primo, grazie Grazie a tutti 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 La miglior presentatrice Grazie a tutti 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 Mi amici E le mie colleghe un applauso e anche il cavo cannoniero della nostra squadra di calcio, non dimentichiamolo e adesso abbiamo grazie, tutti, compratelo da tutti un grande applauso deve arrivare qua direttamente volando, fortunatamente non l'ha fatto cosa vuoi dirci Marco? grazie a tutti per questo Oscar e questo film che abbiamo visto tutti grazie, grazie tanto grazie a te Marco, un applauso dov'è Alex? eccolo lì sei troppo emozionato per venire non vuole rilasciare le dichiarazioni? ecco il premio di Alessandra rilasciare le dichiarazioni non c'è più e lo deve fare con Giuseppe Dotti un applauso abbiamo visto i doppi panni del barista e del carcerato Fabio Fabio hai mangiato bene? perfetto faccio in giustizia mi dico Fabio un applauso a Fabio adesso allora Sonia ecco ti qua sempre bellissima come al solito allora cosa ti ci dici Sonia? è emozionatissima grazie a tu grazie al ispertore Valterra di Corolini grazie a tu grazie a tu Un applauso a Valtore! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.